Buona notizia in casa Bologna. È risultato negativo il secondo tampone effettuato al componente dello staff. La squadra rosso blu perciò non andrà in quarantina nelle prossime ore. Per riprendere però gli allenamenti di gruppo servirà un terzo test negativo. Mercoledì il club aveva comunicato la non negatività di un componente dello staff e predisposto come da protocollo la quarantena per tutta la squadra qualora un secondo test avesse dato esito positivo. Nella nuova nota invece si legge Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo. Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l'allenamento sarà in forma individuale. Regina della prossima sessione di mercato potrebbe essere la Juventus molto attiva sia in entrata che in uscita. L'ultimo nome finito nel mirino della vecchia signora è quello di Milik attaccante del Napoli con contratto in scadenza nel 2021. I bianconeri gli hanno già offerto un accordo pluriennale da quasi 5 milioni a stagione ma il club azzurro non lo molla e vorrebbe riaprire la trattativa sul rinnovo interrottasi prima della quarantena. Nel caso in cui i partenopei non riuscissero a trattenerlo la Juve sarebbe pronta ad agire ma dovrebbe comunque fare i conti con il cartellino dell'attaccante valutato a 50 milioni e con De Laurentiis che non ha alcuna intenzione di accettare una contropartita tecnica. Mancano solo i dettagli ma è quasi certo Mauro Riccardi resterà al Paris Saint Germain che l'Inter non avesse intenzione di raccogliere da piano gentile il suo ex capitano era abbastanza chiaro serviva però a trovare l'accordo con i parigini per non dover passare un'altra sessione di mercato in cerca di una nuova sestimazione per l'argentino. I neroazzurri hanno fatto lo sconto accettando 60 milioni di euro invece i 70 partuiti la scorsa estate che coi bonus potrebbero salire a 65 per Riccardi invece un contratto fino al 2024. Se la Juventus ormai ha escluso la possibilità di portare Pogba in bianco-nero viste le alte richieste economiche del giocatore e del Manchester United il Real Madrid può ancora sperare di poter includere il polpo tra i blancos. Secondo il De San la società spagnola sarebbe addirittura disposta ad offrire quattro calciatori per il francese Ames Rodriguez, Odegars, Lucas Vazquez e Brian Diaz. Questa soluzione permetterebbe a Florentino Perez di offrire una contropartita tecnica aggirando il cartellino da 100 milioni di Pogba contenendo così l'uscita economica. Il Real poi non sembra scoraggiato né dall'ingaggio super del giocatore né dalla resistenza di Ole Gunnar Solskjaer che vorrebbe trattenerlo ancora una stagione. Rimane solo da vedere se la strategia degli spagnoli alla fine pagherà. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!